Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e tanti auguri di buon Natale da parte mia, Mauro Caimi, Trading On, a tutta la mia community, ma a tutta la community dei crypto trader e dei trader in generale d'Italia, tanti auguri da buon Natale da parte mia. Questo è un video un po' particolare ragazzi perché è il video di un regalo di Natale, mi sono trasformato in Babbo Natale, ho messo il cappellino con la palla e farò un regalo a tutta la community, ai super trader veloci che potranno approfittare di questo mio regalo. Ho deciso ragazzi di fare una cosa molto semplice, di dare a tutti quelli che avranno il ditino più veloce, quindi il famoso dito più veloce del quest, la possibilità di avere accesso alla mia Trading On Academy con un mese completamente free. Regalato ragazzi, è un regalo che faccio per una serie di motivi che adesso vi elenco in questo video. Allora il primo, volevo fare qualcosa per la community e ho deciso di dare a tutti la possibilità di poter entrare in Academy gratuitamente per un mese, guardare quello che c'è, andare a spulciare tutti i contenuti, adesso li vedremo insieme e vi spiegherò anche quello che trovate in Academy, andare a vedere tutte le mie analisi che giornalmente pubblico anche e soprattutto in questo momento che è un momento un po' di enfasi sui mercati, bisogna capire se Bitcoin ha iniziato un nuovo trend rialzista che durerà tanto o non tanto, ma anche per chi, tanti di voi magari sono anche curiosi di vedere come si opera da un punto di vista professionale a livello proprio operativo, utilizzando magari i trading system che noi abbiamo sempre in Academy. Però ragazzi questa offerta è solo per i primi 20, quindi i primi 20 che cliccheranno sul link in descrizione dove potrete accedere tranquillamente all'Academy, basta che andate insomma sul link in descrizione c'è il sito, ora lo vediamo insieme, cliccate per iscrivervi ragazzi e avrete un mese free per i primi 20. Andiamo a vedere che cosa si trova in Academy e in che cosa consiste questo regalo, allora ragazzi qui siamo davanti al mio sito, lo trovate in tradingonacademy.com, allora questo sito ragazzi qui potete spulciare un po' tutte quelle che sono le caratteristiche, se volete diciamo vedere quello che si trova in Academy. Intanto io quello che dico già da qui direttamente è che intanto cos'è l'Academy, l'Academy ragazzi è una community dedicata al trading delle criptovalute, essenzialmente solo trading di criptovalute ed è dedicata ed è indicata a trader di natura intermedia advanced, non a trader neofiti, perché nella community dell'Academy si trovano informazioni estremamente rilevanti, estremamente tecniche, molto operative e quindi è un po' ostica per chi non ha nessuna base del trading, quindi è una community ragazzi super operativa. Quello che facciamo in Academy è trading vero operativo, bello intenso, bello aggressivo, ma è anche un modo ragazzi di imparare nel sistema migliore che esiste, cioè facendo learning by doing, perché in Academy si impara andando a confrontarsi con tutti gli iscritti e con me, perché sono lì praticamente sempre, c'è un contatto diretto con i direct message, direttamente lì, pubblico ogni giorno, quasi sempre, insomma ragazzi ci sono tanti trader che sono già in Academy da un annetto e sono diventati estremamente bravi, profittevoli quasi tutti, quindi magari confrontarvi anche con loro vi dà la possibilità di risolvere una serie di dubbi, tantissimi problemi, insomma è una community che io ho creato per fare in modo di poter collaborare fra trader e fare in modo che questa cosa possa far crescere, migliorare la vostra operatività dedicata ai trader che vogliono migliorarsi ragazzi. Quello che si trova in Academy, ragazzi adesso andiamoci proprio sopra, vi faccio vedere proprio quello che c'è, allora qui nel sito intanto trovate alcuni esempi pratici e quant'altro e potete leggerlo tranquillamente, ragazzi qui avete anche le recensioni degli iscritti all'Academy e i vari servizi che si offrono, ma è anche vero che i servizi nell'Academy ragazzi sono in continua evoluzione, proprio una community estremamente evoluta, lavoriamo molto insieme, quindi quello che trovate qui fra un mese già verrà ampliato, perché è sempre così. Per iscrivervi semplicemente ragazzi basta andare qui sul trimestrale, cliccare iscriviti, inserite i vostri dati e avrete un mese free per i primi 20 che cliccano col dito più veloce del web e poi se volete diciamo annullare la vostra sottoscrizione su Paypal annulate la sottoscrizione. Andiamo a vedere che cosa c'è dentro, vi faccio entrare proprio nella Academy. Allora intanto ragazzi questa è un'Academy sviluppata su Discord, è una community dove noi scriviamo, allora guardate qui ci sono tutti i canali, la chat generica dove parliamo un po' di tante cose, magari scherziamo a volte ogni tanto, poi abbiamo un canale dedicato alle risorse e alla formazione dove pubblico un webinar, dove facciamo webinar di formazione su alcuni argomenti particolari, a volte trattiamo delle cose, a volte altre, quelle che sono più importanti in un determinato momento anche per gestire meglio il trading sui mercati del criptovalute. Alcune PDF, alcune guide, l'assistenza per quanto riguarda quelli che si sono iscritti ai miei corsi, tantissime risorse utili, ma di dire trading ragazzi è una chat per gli errori emotivi nel trading online e poi invece qui all'area diciamo trading indicators troviamo degli indicatori che ho creato io, che sono utilizzabili in maniera estremamente tecnica per fare alcune operazioni di grandissimo rilievo. Intanto il Viindicator e nella chat del Viindicator ci sono delle pubblicazioni relativamente a quello che fanno le balene ragazzi estremamente estremamente valide, sono qui, le trovate in questi vari diciamo tool, tutte le informazioni che pubblica il nostro Alfonso insomma che aiuta all'interno dell'Academy a mantenere i fili di quello che combinano le balene, ma da un punto di vista vero ragazzi non quegli alert che circolano online che poi sono solo informazioni, ma se non li badiamo da un punto di vista statistico, se non li analizziamo, il significato vero di quei movimenti non servono a nulla. Qui invece c'è l'analisi dei movimenti in maniera corretta per capire se quello che succede sui mercati è accompagnato dalle balene oppure no, e questo cambia da così a così un movimento di trading. Un altro indicatore che invece ha una validità enorme ragazzi è questo qui, l'over volatility range che è un indicatore mio. Cosa indica questo? Ci indica le buy area e le sell area settimanali di bitcoin ragazzi, statisticamente calcolate. Ci dice dove siamo in eccesso da un punto di vista di massimi e di minimi e quindi possiamo regolare il nostro trading in base a questi buy area e sell area. Se siamo magari nella zona sell possiamo decidere di fare un long a una minima inversione o seguendo una nostra strategia, se siamo in una zona di, diciamo, aria estremamente elevata quindi possiamo decidere di vendere magari o andare in take profit. Questo indicatore è nuovissimo, pubblicato da pochissimo, è un'altra giunta. Tutti gli indicatori che trovate in academy sono spiegati dai video tutorial ragazzi con quello che sono le mie indicazioni, quindi ci sono dei video all'interno dell'academy tutorial e anche nei singoli canali. Allora qui poi vedete nei trading system, nella zona trading system ci sono tutti i trading system che vengono utilizzati e pubblicati regolarmente. Questo per esempio ragazzi è il mid term, è quello più valido da un punto di vista di trading system, diciamo, di medio periodo, con gli ingressi come vengono indicati, vedete ragazzi è long da questo prezzo su bitcoin, questo è quello che sta facendo in questo momento, deve essere aggiornato, diciamo, sto registrando qualche giorno fa, quindi insomma deve essere aggiornato agli attuali livelli. Qui troviamo altri segnali di trading, sono tutti pubblicati in tempo reale, possono essere anche seguiti alla lettera dai partecipanti all'academy, anche se io nell'area dei video do una serie di consigli su come interpretare questi sistemi e come è giusto per un trader imparare da queste cose e non seguirli con i paraocchi che non è una scelta corretta. Nell'area invece analisi e live trading, qui ragazzi è quello che avviene giornalmente, con le mie analisi su youtube, che vengono approfondite dalle video analisi pubblicate in questa sezione su bitcoin, quindi tutte le video analisi le pubblico qui, quando facciamo analisi multicicliche, tutto quello che sta per accadere, tutto quello che può accadere sul mercato, quello che avviene anche in real time, vedete queste sono state pubblicate poche ore fa, e questo è quello che facciamo in academy, sia su bitcoin, ethereum, altcoin, qui ci sono anche dei segnali che vengono dati da un nostro collaboratore, segnali sulle altcoin, da trattare in bitcoin, insomma ragazzi tantissimo, tantissimo materiale, poi qui abbiamo le news classiche e gli exchange, come valutarli, quali sono i migliori, quali non sono i migliori, ma non è finita qui ragazzi, perché nel 2020 l'academy verrà rinnovata con l'introduzione di una serie di servizi estremamente tecnologici, tra cui un tool che è già in lavorazione per eseguire le operazioni direttamente sui propri conti, senza diciamo entrare nella piattaforma web, quindi in maniera estremamente veloce, che avrà una killer future fatta da me con un sistema di trailing stop, che potrete poi settare, si potrà poi settare, che vi consentirà di inserire anche il trailing stop laddove non c'è neanche nelle piattaforme ufficiali, come ad esempio su binance, e poi ci sarà un nuovo trading system automatico, sviluppato in base al mio indicatore sulle buy area e le sell area, quello che vi ho fatto vedere prima, e poi dolcessi in fondo un bot che dovremmo riuscire a creare ragazzi, che dovrebbe dare la possibilità a tutti gli iscritti di poter utilizzare dei sistemi automatizzati su binance in maniera diretta. Bene, che dire ragazzi, questa è la community a cui io tengo di più, il mio lavoro da un punto di vista di trader è spulciato qui dentro, la mia mentalità, tutto quello che faccio, come ragiono, tutto quello che posso dire ai miei iscritti lo faccio con grande piacere, e oggi vi ho fatto questo regalo di Natale, spero appreziate questa cosa, ed è un regalo per me di grandissimo valore ragazzi, perché la cosa che vale di più di tutti per un trader e per chi vuole stare sul mercato del trading online, è una, ed è la formazione ragazzi. Io lo dico da più di un anno, ho dedicato tutta la mia vita a questa cosa, i risultati vengono assolutamente se si è incentrati con questa mentalità, perciò il mio regalo di Natale è un mese di formazione, iper, iper approfondita da trader advance intermedia nella mia community ragazzi. Solo per i primi eventi, cliccate e poi ci vediamo lì. Bene, io vi auguro ancora un buon Natale, felice Natale a voi, a tutte le vostre famiglie, ai vostri cari e mi raccomando, mangiatevi il pandoro. Ciao!